Si sieda, mette i soldi sul tavolo. Benvenuto. Le carte possono illuminare il suo futuro. Sento che è in pericolo. In verità preferisco leggere il suo futuro. Sento che il suo prossimo cliente è qui per ucciderla. Oh, come mi è mancato, Holmes. Vedo che la sua rete del complotto si sta ampliando. Sono immerso nel caso più importante della mia carriera. Gli indizi puntano in una direzione. Il professor James Moriarty. Sicuro di voler giocare a questo gioco. Temo che lei perderebbe. Non è il mio travestimento migliore. Ma ho dovuto improvvisare. Questo non l'ha visto nelle carte, giusto? Che cosa ci facciamo qui sotto? Noi aspettiamo. Non lo sbracchi! Questa è la mia luna di miele! Me lo tolga dalla faccia. Non è sulla sua faccia, è nella mia mano. Tolga quello che hai in mano dalla mia faccia.